Dunque il corso di ordinamento e diritto dello sport, organizzazione dello sport direi che è materia piuttosto recente, piuttosto nuova, nel senso che rispetto alla storia del diritto nasce ai fine Ottocento con l'inizio dell'Olimpismo, le Coubertin, le Prima Olimpiadi e così via, poi si è consolidato nel metà degli anni 90, l'industria dello sport produce ulteriori benefici per il nostro malandato PIL, l'audience televisiva raggiunge limiti straordinari con lo sport, ecco questo per dire che l'ordinamento sportivo poi in linea con questo sviluppo dello sport è progredito, attualmente rappresenta una branca molto importante a sé stante, con specificità, con autonomia rispetto a quello statuale.